Caffè, 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 caffè. Va ora in onda. Tuore Granata Caffè. Un programma curato e condotto in studio da Nicola Conforti. A tutti buono ascolto. E riprendiamo anche quest'anno con le nostre telefonate, la nostra opinionista. Pronto. Pronto. Due, due, questo, pronto. Come quello? Come quello? Qua te? Sta con certina ha telefonato lei. Sta bene, rica, signor Conforti, come sei? Ma vi a stare così in via. Tutto bene, tutto bene. Ma papà. E sta bene anche lei, eh? Allora che dice? Che dico? Riprendiamo il pallite, il tuo candidato, parliamo a lei. Ma senza tappinate? E come si fa? Eh, allora? Buona, finito, due, due. Un pareggio a mia, mi piace io sto pareggio. A Novara, sì, sì, sì. Eh, bello, bello. Anche se io stavo molto umano. Davvero? Sì, perché un colo di decenche fu belle. Decenco, di testa. Ma ci tirai tappini o televisure. Ah, chi? No. Quello, illegittime. Che tu no, così chiama illegittime? Quello con la base, legittimo. Che tu capisci a perdere. Sta studiando i meccanismi. Vabbè, va. Mi stiro, vi ciò te e due. Eh, vabbè, dai. Mi chiedono un colpo di sangue. Ma il 2-1 non è bastato. Ah, prima mi ha messo il gol in base, ma non se se. Ma chi ti? No, se se non molla mai, infatti. Infatti, Ferrette, all'ultimo. Sì, che ti? Sì, che ti? E' il gollo. Eh, che gol che ha fatto. Sì, è in fretta. Prima Boscaglia non l'ha digerita, eh. Ma, abbassiamo i costi. Va' andata prima partita. Amici, 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 mi ha posto un punto. Il nuovo direttore. Sensibile. C'è un trucato, è vero? Educativo. Parla da te hanno uscito. Vero. E parla un altro, mi dice i microfonesi. No, no, è di tutt'altra schiatta. Sì, sì. Però, lei che è uomo rimondo, ma voglio avere una curiosità. Magari lei sa queste cose. Ma, come fai che sei sensibile? Ha tante semplicità che ha messo i manichironghi, pur io non gli ricavano. Eh, non lo so, forse avrà un impianto d'aria condizionato interno, ufficio. Eh, ci mancavano i baguini in gambo. Dei baguini. C'è sempre i manichironghi. E va bene. Tu non sei se ne pittizzo, se mi sa giacca. È questione di stile. Magina, ma già fa durare 20 secondi. Sì, ma anche Boscaglia, eh. Ha fatta. Anche Boscaglia. Sì, tu ci parli che stessi. Sì, ma parliamo del Trapani, eh. Sì, sì, guarda te sono travi. Un'è che facile è buttare una stagione in una squadra dopo che si mette la finale di Serie A. Eh, vabbè, dai. Sì, tu. E poi, poi mi sento il nero, tutti tutti i soggetti, con fagiani che se ne io, con una poco manca a burdi che se ne io. Eh, questo è il calcio. Ma, Boscaglia, se sei se. Che c'è, come da te stare? C'è, sui nevolini, sinistra, ricossa. Boscaglia, così si fa. Dai, ti parli chiaro. Ti arrabbi, però. Comunque. Eh, comunque. Ora è una cosa che mi facciamo a fare. Dica. Parliamo un'altra cosa. Mi riguarda un'altra cosa, mi riguarda un'ovare. Un'ovare. Novare. Ma ho vinto lei. Cosa? A robettino Boscaglia, come combinato. Ah, allora se ne è accorta pure lei, perché gli avevo detto poco fa. Eh, mi fisi in bizzio. Perché? Mi fissi in bizzio così, che giacca, che gavatta di ora, so come ricordava. Che cosa? Ma ne ho mostrato il mio marito io, a chino, a buttare. A buttare, no. Ma come combinato. E questo è stile, è la divisa del Novare. La divisa del Novare. Certo. Ma che li vestono da buttare, che secondo faccio, ne può non stare, perché era abituato con il tuo, che si metteva tutte, si metteva la sciappa, faccia la collo. Era casual. Ma che saccio, però non posso accertire. Allora lei. Dica. Lo faccio, se ci può dire, o ci può far capire. Rombettino mio, ho capito chi ti ti veste nuovo su da buttare. Eh, vabbè, ma scelta. È squadra nuova. Ti paga un abbetto in buonucido. Però non è vero, tu ci vai. E questi, questi capiti, sapete, un direttore, no direttore, come si chiama, dittature, dittature di Lugoreo, Lugoreo Donotto, Kimmi, Kimmi. Kimmi, sì. E lui aveva fatto i piccoli in due. Adesso i capiti di Kimmi e chi ti aveva rubettino Moscaglia. Guardate. Ma dai, dai, che cosa va a guardare? Ora prendiamo la Provencelle. Eh, pensiamo alla Provencelle, dai. Sì, prendiamo la Provencelle, che arriva a Romine Casilla, cerchiamo di buttare tutti in punta a casa, con nappe e nappe, anche su Pasqua, noi prendiamo le cazzanette di Pasqua. Le guardate tutte a fottatavane. Arrivederci, sacunchiti, arrivederci.